cari amici benvenuti allora alla nostra catechesi con il nostro bellissimo libro di catechesi la chiesa è indistruttibile siamo in diretta quindi stiamo facendo il quarto capitolo che riguarda diciamo il messaggio principale che il malone ha dato alla parrocchia di megiugorie attraverso la parrocchia di megiugorie a tutta la chiesa quindi abbiamo visto quindi che attraverso la parrocchia di megiugorie il messaggio della conversione che è il più importante messaggio di megiugorie è risuonato in tutta la chiesa risuona tuttora poi stiamo analizzando tre situazioni della chiesa della chiesa dei fedeli diciamo di noi che abbatteniamo la chiesa tre situazioni nelle quali abbiamo bisogno di convertirci allora prima condizione sono i figli della chiesa che vivono che vivono in peccato mortale sono membra morte del corpo mistico di cristo poi i figli della chiesa che cedono alla mondanità per cui pian piano cari amici riscano di perdere la fede e poi i figli della chiesa che tradiscono la chiesa e questo lo troviamo in un messaggio angosciato dalla madonna e tradiscono la chiesa ci sono tanti modi tradire la chiesa ma è più grave quello che la madonna stessa ha segnalato cioè dopo che sono stati battezzati rifiutano la fede e la croce bestemmiano dio allora vediamo queste tre situazioni in cui è urgente la conversione la prima i figli della chiesa che vivono nel peccato ed è una situazione molto molto diffusa anche perché come sapete abbiamo vissuto in questi decenni una grave crisi il sacramento della confessione adesso si cerca di almeno qui in italia si cerca di riprendersi dopo il covid non so come sarà e come in altri paesi del mondo però c'è l'italia è ancora quella che meno peggio però non so se altro il sacramento della confessione sia sia in ripresa o meno allora noi intanto guardiamo guardiamo a questo fatto cioè che nella vigna del signore ci sono molti rami secchi o se vogliamo fra le membra del corpo mistico di cristo ci sono molte membra malate o morte come ha detto la madonna molte anime vanno verso sono malate vanno verso la morte spirituale cari amici quindi poi anche il messaggio ultimo dalla madonna e cioè molti cuori sono inariditi e sono sterili non producono più niente perché la zizzania li ha mangiati dunque sono tutte situazioni dove è urgente la conversione quindi è niente stare lì a fare polemiche si tratta semplicemente di passare dalla morte alla vita detto in parole povere leggiamo e commentiamo ma siamo a pagina 87 del nostro libro ormai siamo alla metà la situazione spirituale della chiesa e del mondo vista dal cielo non è quella che vediamo noi qui sulla terra i nostri occhi offuscati e non di là lo accecati non vedono il male che ha conquistato i cuori e che corrompe la società per vedere il male della sua realtà ripugnante distruttiva è necessario avere un cuore puro e occhi limpidi se no il male non lo vedi diversamente il male inganna con la sua falsa luce e le sue illusorie promesse più ci si allontana da dio e dalla sua luce vera più il male appare inoffensivo e perfino attraente difatti in molti casi il male viene saltato il serpente antico è un maestro nel presentarlo come una bene senza il quale possibile vivere felici cioè come dice caterina da siena satana presente il male sotto colori di bene e trova presente in modo tale che tu pensi non riesco a vivere se non lo mangio quel frutto lì è l'antica tentazione delle origini che si perpetua nella storia umana e che è la causa di innumerevoli disastri esistenziali e sociali cioè la tentazione è sempre quella cari amici ed è la che raccontata in genesi 3,6 e cioè attenzione allora la donna vite che l'albero era buono da mangiare credito agli occhi e desiderabile per acquistarsi azzezza prese del suo frutto e ne mangiò era desiderabile non ne poteva più è per quello che bisogna digiunare poi ne dede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò la figlia di bertoldo ha fatto allora si aprirono gli occhi tutte e due e si accorsero di essere nudi intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture ritengo questa descrizione uno dei capolavori dell'umanità assoluti a parte il fatto che è rivelazione di dio insomma ma sotto un profilo umano la ritengo un testo assolutamente fuori classe ecco l'arte di presentare il male come buono e gradito e desiderabile sono le tre espressioni che trovi in quel brano lì no cioè il male cioè la mela buono gradito desiderabile trova la sua espressione più efficace nella tentazione il marchigennio col quale satana adesca le anime e le tiene prigioniere la pagina della genesi ha illuminato il combattimento spirituale di innumerevoli generazioni e di quando al bene da praticare e armando gli animi contro il male da combattere e leggere con la brana col brano lì per scoprire il diavolo in particolare la chiesa nella sua storia bimillenaria è stato un pedagogo solerte nel mettere in guardia i fedeli degli inganni del falsario insegnando loro l'arte del discernimento in modo tale da scovare l'astuta serpe sotto le foglie c'è l'astuta serpe mentre sempre in agguato per colpire con il suo morto mortale io mi ricordo una volta nel rimuovere ero da ragazzo ero in seminario però ero su una collina della Liguria facevo i funghi ho visto un bel porcino ho rimosso col foglio col bastone ho rimosso le foglie che stavano intorno al porcino mi è venuta fuori un aspide me l'ho dimenticherò mai è un'immagine che mi ha colpito perché il fungo porcino quando lo vedi attraente solo che prima lì c'ha sotto le foglie c'era un aspide e questa è in questa luce che comprendiamo la crisi in cui è entrata la fede della chiesa in questo passaggio storico e i messaggi della regia della pace ha dato in questi decenni di apparizioni quindi diciamo così la mela che che satana ha offerto al mondo è questa cari amici e cioè se ne mangerai sarai come dio cioè la seduzione qual è è questa mettere se stessi al posto di dio questo è il peccato del mondo nel quale si collocano anche tutti i nostri peccati personali quindi cari amici è in questa luce che comprendiamo la crisi in cui è entrata la fede della chiesa in questo passaggio storico e i messaggi che la regia della pace ha dato in questi decenni di apparizioni dico crisi della fede e della chiesa nel senso che una enormità di persone in occidente ha perso la fede non c'è dubbio al riguardo però a mio parere non si può parlare di crisi della chiesa in senso stretto per la semplice ragione che però la chiesa ha ripreso molto in africa e ha ripreso molto anche in asia quindi è l'occidente soprattutto che che però ha consolidato grazie alla madonna forti minoranze forti minoranze combattenti però si può dire in generale che negli stessi credenti si è attenuata la percezione della gravità del peccato arrivando a scusarlo e persino ad avvallarlo in questi giorni c'è il tripudio della Francia perché tutti insieme hanno messo nella costituzione che l'aborto è un diritto voi pensate a che grado di accicamento può arrivare un paese che era un paese che era considerato uno dei paesi più cattolici del mondo un secolo fa quindi cari amici lungo questa deriva si è arrivati ad annullare i capisaldi della moralità naturale gli stessi comandamenti come se fossero delle remole all'esercizio della libertà della ricerca della felicità base di pensare come i peccati ritenuti fai più gravi dalla chiesa delle origini come la porta e l'adulterio oggi nell'opinione pubblica siano considerate espressioni di diritti personali la mentalità relativista secondo la quali il bene e il male sono opinioni soggettive ha fatto sì che ognuno si regoli a modo suo arrivando a chiamare bene c'è ciò che oggettivamente è male e viceversa la deriva morale della società è sotto gli occhi di tutti ma quello che invece appare insopportabile al cielo è che i credenti si lasciano condizionare da questo oscuramento delle coscienze che porta inevitabilmente all'impenitenza finale e alla rovina eterna delle anime perché questo c'è in ballo non è una battaglia culturale cari amici è una battaglia spirituale dove satana miete le anime in questo contesto si colloca l'azione di risveglio della regina della pace che pur non entrando nei singoli peccati se non nei casi particolari ha mostrato il peccato nella sua abissale gravità nella sua bruttezza una bruttezza ripugnante nei suoi effetti deleteri sul piano esistenziale e nelle sue lefaste conseguenze per la salvezza eterna delle anime insomma cari amici parliamo di tutti anche nella chiesa perché non voglio criticarmi io sento le prediche al mattino che pure con i direi domani sono fra le migliori per la verità però insomma non è che si parli molto di peccato e di salvezza dell'anima eh la madre lo ha sempre fatto con chiarezza ma anche con delicatezza prendendo i peccatori per mano incoraggiandoli sulla via della guarigione esortandoli ad accostarsi al sacramento della confessione dopo ogni caduta la madonna sulla scena del vangelo ha la massima intransigenza nei confondi del peccato ma la più grande amorevolezza verso i peccatori il peccato infatti è un veleno che porta alla morte e cui effetti sulle persone sono devastanti per questo motivo deve essere combattuto fino ad estirparlo completamente dalla propria vita in modo tale che l'anima ritrovi il suo splendore la sua bellezza e il quale si ricolmo di gioia e di pace cioè il peccato fa male rende tristi è una degradazione è un suicidio col contagocce è un guizzaglio del demonio è ciò che di più brutto può esistere ma noi noi ormai abbiamo perso il senso del peccato che brutta cosa c'è un degrado generalizzato dovuto all'ossido di carbonio del peccato un degrado generale della gente poi ci sono delle perle qua e là grazie a dio ma la madonna ci ha anche messo in guardia attenzione che le tenebre non vi afferrino i messaggi della gospa usano un linguaggio moderno e accessibile a tutti per esprimere le grandi verità della fede insiste molto nel mostrare le conseguenze del male quando entra nella vita di una persona che lo compie cadendo nell'inganno satanico la tentazione è sempre un inganno ricordatevelo infatti il male è una falsa gioia come dice la madonna e si mostra tale dopo che lo abbiamo compiuto il peccato è una illusione di felicità che dura poco perché nel cuore entra l'amarezza l'insoddisfazione e il rimorso la madonna in un messaggio del 25 febbraio del 1987 nel famoso messaggio a Miriana molto lungo una requisitoria tremenda disse desidero che ognuno di voi sia felice ma nel peccato nessuno può esserlo felice oggi il peccato viene abolito in nome di una libertà assoluta che pone l'uomo al di là del bene e del male come se non ci fossero limiti sia la sua autoaffermazione in realtà il peccato è una forma di schiavitù dalla quale veniamo incatenati e dalla quale non siamo in grado di liberarci senza la potenza di Dio la gosba riguarda un'espressione estremamente originale molto profonda nella sua verità esistenziale e cioè la vostra libertà è la vostra debolezza solamente solamente la Madonna poteva dire una cosa di questo genere immaginate voi che qui in questo caso Miriana se poteva inventarsi una parola di questo genere la vostra libertà è la vostra debolezza dice la madre i figli che si illudono di poter fare quello che vogliono senza regole morali come se il cattivo uso della libertà non portasse a conseguenze negative cioè tu dici che il veleno è un digestivo poi lo bevi e ti la metti perché non l'hai digerito per quanto riguarda per questo la Madonna intende guarire i mali della Chiesa incominciando una decisa lotta contro il peccato che la inquina e la paralizza per Chiesa intendo tutta la Chiesa in generale che come sapete è fatta di peccatori che si convertono la Chiesa c'è solo la Madonna che è senza peccato non so se c'è qualche di un altro qualche pia sardina magari non si limita a proclami generi la Madonna non si limita a proclami generici ma incomincia proprio dalla parrocchia di Meggiugorie invita i parrocchiani a prendere coscienza del male che domina nel mondo e nella loro vita personale per incominciare a estirparlo guardate che come li prende di petto i parrocchiani nella quaresima dell'84 la Madonna ha dato colpi di frusta incredibili pensate dici i parrocchiani nel messaggio del 5 aprile dell'84 1984 pensate alle ferite al cuore di mio figlio offeso con tanti peccati questo cuore viene traffitto da ogni peccato grave vi prego dice sempre l'84 non permettete che il mio cuore pianga lacrime di sangue per le anime che si perdono nel peccato sembrano parole d'altre epoche ma sepolte dall'oblio e la Madonna le fa risuonare nella chiesa di fine secolo travagliata all'inizio secolo anzi travagliata dalle correnti moderniste e dalle rivoluzioni culturali anticristiane e decise di svuotare la fede da ogni riferimento soprannaturale cioè veramente la Madonna è controcorrente in tutti i suoi messaggi che ha fatto a Međugorje è evangelica al 100% è cattolica al 100% e va contro un mondo che si secolarizza sempre di più e diventa poi schiavo del demonio per cui la Madonna dice Satana regna in questo contesto cari amici risuona l'appello pressante alla conversione che è rivolta innanzitutto alla chiesa a tanti sacerdoti religiose religiose ipnotizzati dalle false luci della modernità e tentati di prestare ascolto alle serene montane onnipresenti quanti di loro si sono lasciati influenzare quanti ad escare abbandonando il ministero quanti hanno travito pur restando nella chiesa sentite questo messaggio del 25 marzo 99 25 marzo l'annunciazione a volte lì la Madonna ha dei messaggi che sono colpe di frusta cari figli vi invito a pregare col cuore in modo particolare figlioli vi invito a pregare per la connessione dei peccatori di quelli che trafiggono il mio cuore e il cuore di mio figlio con la spada dell'odio e della bestemmia quotidiana preghiamo figlioli per coloro che non vogliono conoscere l'amore di Dio pur essendo nella chiesa preghiamo figlioli per coloro che non vogliono conoscere l'amore di Dio pur essendo nella chiesa preghiamo che si convertano che la chiesa risusciti nell'amore bene carissimi possiamo fermarci qui abbiamo detto abbastanza su questa prima categoria di persone che devono accogliere l'appello alla conversione che sono proprio i fedeli diciamo così tutti quei fedeli che vivono in stato di peccato mortale che è comunque una situazione esistenziale molto pericolosa cari amici perché poi sono anche quelli che muoiono senza i sacramenti senza i sacerdoti che li confesse che da loro il viatico senza malati persone che li fanno pregare è stato attenti cari amici che di anime una sola se ne ha se si perde che ne sarà la prossima volta faremo il capitolo invece di tutti quei figli che invece cedono alla mondanità e cioè a quella mentalità modernista con la quale perdono la fede e questo carissimi è quel capitolo del libro La Chiesa Indostruttibile che mette a fuoco quel male che la Chiesa è chiamato combattere in se stessa e nel mondo e cioè il peccato che è come dire il peccato è il frutto è come dire è ciò che il demonio vuole per farci i suoi è un veleno mortale per per liberarci di questa catena che ci rende schiavi dobbiamo essere pronti a sudare il sangue ma poi saremo tanto felici allora cari amici per avere il libro questo libro sulla Chiesa lo ritengo molto importante soprattutto per gli apostoli di Maria perché guai a noi se entriamo nel tempo dei segreti con tutte quelle critiche che facciamo sulla Chiesa con tutte quelle idee sbagliate che ci sono con tutte quelle impennature a volte critiche fuori posto nei confronti del suggestore di Pietro se entriamo con queste idee nel tempo dei segreti facciamo una brutta fine dobbiamo dobbiamo acquisire guardate ve lo dico col cuore dobbiamo acquisire uno sguardo soprannaturale sulla Chiesa uno sguardo soprannaturale sulla Chiesa perché la Chiesa è fatta da uomini ma in essa vive Cristo e vive la grazia vivono i sacramenti vivono lo Spirito Santo acquisire questo sguardo soprannaturale è il fine di questo libro per averlo potete comunque mandare il vostro messaggio di WhatsApp allo 031 610 600 col titolo del libro la Chiesa indistruttibile nome e cognome e indirizzo numero di telefono per il per diciamo il corriere che porta il libro o che porta altre cose c'è anche un gadget bellissimo da mettere al polso per dire le decime la vie maria del rosario poi cari amici potete richiedere il gestore online che lo portano anche a casa molto velocemente e nelle librerie cattoliche e poi qui a Redomaria anche telefonando che molti non c'hanno i mezzi i social telefonate al 031 610 600 610 600 il numero di telefono dell'ufficio della Domaria poi potete anche inviare l'email info.ita chiocciola domaria.org e anche col sito cliccate catalogo con questo amici abbiamo terminato vi do l'appuntamento per il prossimo capitolo restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria Radio Maria